Molte ragazze quando arrivano ai miei corsi feriscono le clienti durante il taglio e non capiscono il perché. Quasi sempre il motivo è la scorretta inclinazione delle lame rispetto alla cuticola. Infatti non tutte sanno che esistono forbicine per destrose e per mancine e probabilmente tu hai bisogno di quella per mancine. La forbicina per mancina, la lama sinistra sovrapposta alla destra e la forbicina per destrose viceversa. Stalex indica il modello per mancine con il numero 11. In più esistono anche forbicine con la madoncina e classica ma questo ve lo racconto in un prossimo reel. Se vuoi sapere a che cosa servono commenta qui sotto con un sì e salva il reel per non perderlo.